Salve a tutti ragazzi, siamo Franco e Francesco. E oggi che cosa faremo? Oggi andremo a recensire una serie di YouTube che si chiama Tutoriality in Universia. No, non stiamo parlando del nostro, ma di quello di Paolo Paolignov. Che è una copia, brutta copia, del nostro. Allora, qual è la trama? Beh, non c'è una trama. Cioè, effettivamente ci sono sti qua che ci sono 28 concorrenti, o 25, non lo so. Che sono un pochino troppi. E niente, fanno cose e basta. Ecco, ma è il momento di dire la nostra opinione su questa serie. Beh, su questa serie non c'è molto da dire, a noi non ci piace, perché è una copia del nostro. Vabbè, allora, questa serie fa schifo, esattamente schifo proprio. Continua. Eh, ma è da apprezzare l'inventiva che ha Paoli, ma non è riuscito a copiarci in modo soddisfacente. Ecco, ma diciamo i motivi. Numero uno. Non ci piace perché ci copia? No, spieghiamoli più in fondo i motivi. Eh, dimmeli tu, dimmi tu. Allora, numero uno è copiato dal nostro. Si vede che è molto copiato. Cioè, le presentazioni, le eliminazioni. Eh sì. Ho fatto la rima. Cioè, i personaggi sono copiati dai nostri. Poi, numero due, l'evoluzione. Qui l'evoluzione non esiste. Non c'è una trama ben precisa. E non c'è neanche l'evoluzione dei personaggi. Da Francieremo a qui. Perché Cyborg e Baby rimangono sempre dei noiosi rompiscatole. Cioè, noiosi e basta. Gamble rimane sempre un BM. E si è giunto un nuovo personaggio, Uva Ryan. Esattamente, a che cosa serve Uva Ryan? Beh, poi Creamy, a cosa serve? Cioè, Creamy, che c'è, allora... È un manga, che c'entra con gli articartoni? Allora, numero tre. Che c'entra Creamy? Allora, che c'entra Creamy? Lei da piccola voleva diventare una cantante, non una rappresentatrice. E poi è un manga. Che c'entra noi manga con questi cartoni? Niente! Assolutamente niente! Ma... Io non ci credo. Poi... Poi c'è il numero... Quattro? Numero quattro. C'è Minion. Allora, voi pensate che Minion non è una brava persona? No! No, Minion non è una brava persona. Anzi, è uno strobip. Lui prende sempre in giro... E fa sempre dispetti. Tipo... 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 Tipo c'ha insultato che... C'ha insultato così male che voi non avete idea. Che c'è? Ci ha insultato così male. Mi ripeto, malissimo. A caso... Continua tu? Eh sì, Minion non è proprio una brava persona. C'è una cattiva persona. che poi nell'episodio 6 di A Tutoriality L'Universi o per il nostro, beh... Beh, farà una comparsa però da strobip. E niente ragazzi. Noi a questo programma diamo un... Che voto? Aspetta. Diciamo almeno l'altro motivo. Qual è? Allora, un numero... Cinque. Numero cinque, dillo tu. Non lo so. A me non piace perché non ha una storia precisa e perché ci copia questo. Vabbè, ci copia malissimo poi. Cioè... Cioè, è proprio una malaccia totale. Poi, non sappiamo che cos'è peggio fra Francia e Remo e questa copia sputtata di A Tutoriality L'Universi. Secondo te? Se la giocano. Se la giocano a chi è il peggiore. Ma credo che il peggiore... Non c'è il peggiore. Sono tutti e due brutti allo stesso livello. Però dai, Paoli è un amico comunque. Quindi diciamo che apprezziamo il fatto che ha così tanta inventiva. Che fa tanto lavoro per fare tutti questi personaggi. Ah sì, me lo ricorda il numero cinque. Che c'è? Dimmi, qual è? Allora, numero cinque. Non ci mette cose divertenti. Infatti stasera è noiosa. Non c'è niente. Non c'è niente. È noiosa stasera. Ma di un livello che voi non avete idea. Avete presente che all'università ci mettiamo delle gheghe o tipo gente che si fa male o queste cose. Qui invece non ce ne sono. E soprattutto non ci sono neanche le puzzette. Come dovrebbero far divertire. Ma dovrebbero far divertire. Anche perché è l'arma segreta. Nel nostro universo è l'arma segreta di Bibi e Cyborg. Ecco. Qui invece non ce ne sono proprio. Ma poi ragazzi vogliamo parlare vogliamo parlare cioè e voi direte vabbè adesso direte ma il Venture Time vabbè adesso Chi è peggio fra questo e Adventure Time? Di sicuro qual è? Secondo me questo almeno Adventure Time ha una storia. E voi direte ma il Venture Time non è il cartone che odiavate di più in assoluto. Sì ma non abbiamo detto che ci piace abbiamo detto che rispetto a questo è meglio. Almeno c'era una storia certo il cane parlante è copiato da molti show però c'è è copiato da molti show il cane parlante giusto? Eh sì tipo dai Griffin da Polino da da molti programmi da Yo-Yo oppure in Yo-Yo c'è un cane parlante Yo-Yo sì che è la brutta copia di Yo-Yo e questo ragazzi comunque a noi questo questa serie non ci piace e però apprezziamo che Paoli fa tanto lavoro ed è molto bravo a disegnare il nostro voto per questa serie è un 1 ok e bene ragazzi il video finisce qui speriamo che vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima ciao a tutti e noi ci vediamo alla prossima e vi diciamo solamente che il prossimo video sarà la con film dance di a casa dei autosilis stagione 3 ok ciao